Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono il re della rista Cancelletto 1, parlo a recensione di un film del 1971, Uomo Bianco va col tuo dio. Dato per morto dal capo spedizione dopo essere stato attaccato da un orso, un esploratore di frontiera sopravvive e cerca vendetta. Il mio voto a questo film è 7, ho voto a questo voto perché il film mi è piaciuto, mi sono piaciute molto le scene del film, l'interpretazione della sceneggiatura. E di genere western, la durata è 1 ora e 45 minuti, il regista è Richard C. Sarafian, la regia è buona, bravo regista. L'attore è Richard Harris, bravo attore, nel film anche John Huston, Harry Wilkson, Brunella Ransom, Ben Caructes, Dennis Wartman, Percy Herbert, James Doan, Norman Rossington, John Bindon, Robert Russell, Bruce M. Fisher, Sheila Raynor, Dean Seilmer, Judy Furse, William Layton, Brian Marshall, Tony Cyrus. Saluto Anna, Samobrina, Cita, Aliciotola, Markolf, Pia, Festival, Leo, Tassoni, Bulluni, Van Drago, Michele Tregigliani, Favij, Picchiatore, Etelefin122, MrBikeTV, Il Trio Medusa, Peter, Tim, Finder, guardate questo video, lasciate dei commenti, lasciate dei like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, arrivederci e al prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto.